Marco intanto in questo stadio con questa maglia si è arrivato il grande calcio però qui non li hai mai segnato, a Parma e col Bologna li hai segnato, e oggi? Oggi ci riprovo per l'ennesima volta, speriamo che vada meglio delle altre forse l'emozione che mi tradisce all'Olimpico è fatta di tanti ricordi comunque sono cresciuto qua e è una partita particolare per me Ecco, è una partita particolare per te perché si parlava in estate arriva il centroavanti forte eccetera, però il centroavanti grande non è arrivato tu sei là davanti a guidare l'attacco, è una responsabilità maggiore ti gratifica questo, ti spinge, ti stimola? Ma sì, gli stimoli sono sempre tanti come ho detto anche nel recente passato dunque poi confermarsi e fare bene in una nuova realtà come la nostra con tanti cambiamenti è da grande stimolo, speriamo di non tradire nessuno spero di fare una buona annata insieme ai miei compagni siamo una buona squadra, adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo con il nuovo allenatore, idee nuove, dunque c'è da lavorare tanto però oggi sarà un banco di prova importante per noi, speriamo di far bene Ecco, allora Malesani ha portato una novità, che cosa cambia? Che cosa è la prima cosa che hai visto? No, ma beh, cambio di modo di allenamenti, cambio di mentalità modulo, tante piccole cose, oggi giochiamo alla difesa a tre dunque già questa è una grande novità per noi Con l'Inter ci ha preso gusto, si è caricato bene poi si è riposato due settimane, è arrivato Malesani che le cambia un po' le carte in tavola è meglio, gli uomini sono quelli ma ci sono novità, che cosa si aspetta da questa squadra? con la difesa a tre? Ma guardi, il modulo, credo che la persona più indicata a parlarne sia il mister io mi aspetto alla stessa determinazione che c'è stata con l'Inter la voglia di fare, di affrontare tutti alla stessa maniera con la consapevolezza di avere la nostra forza e di poter affrontare chiunque Abbiamo visto che Divaio è il centro dell'attacco quindi il centravanti è alto, forte non l'avete preso, ci avete ripensato perché eravate già sicuri di Divaio Siamo, a parte che non siamo sicuri di Divaio ma siamo sicurissimi e poi abbiamo, pensiamo sempre che tre o quattro velocissimi come frecce ci facciano più di uno alto al centro Un'ultima cosa che le chiedo lei sta fra i falchi o le colombe per quanto riguarda il discorso del sciopero dei giocatori? Domani c'è un incontro importante? Guardi, domani è un incontro importante Io penso che in un momento di economia mondiale che stiamo vivendo credo che si possa trovare un accordo che vada bene a tutti perché credo che la categoria in cui sono entrato da poco e sto operando sia un settore sicuramente privilegiato quindi mi sembra veramente assurdo pensare a scioppi o altre cose quando si sta discutendo di cose veramente banali e risolvibili molto velocemente grazie a tutti 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 grazie a tutti